Come si svolgono le terapie? Beh, innanzitutto preciso che le sedute si fanno in presenza. Non si può fare una seduta online a distanza perché, sì, io posso dare qualche consiglio, il paziente può anche avere un qualche sollievo temporaneo, però non si può sicuramente rimuovere la causa, non si può probabilmente neanche capire la causa. Quindi la cosa migliore è una bella seduta in presenza e subito si parte con una valutazione. Una valutazione che quindi si farà con carta e penna, in questo modo. Anzi, no, oggi sono superate. Siamo passati già al computer. Ok, quindi facciamo una valutazione innanzitutto per capire dov'è il dolore, ma soprattutto come è iniziato. È chiaro che se viene un paziente una settimana dopo essere caduto sul gomito e mi dice che ha male al gomito, io concentrerò la mia seduta sul gomito perché se prima stava bene, dopo è caduto e ha avuto male al gomito, è chiaro che l'origine è questa caduta. Però se il paziente mi viene con un dolore al gomito un anno dopo essere caduto, probabilmente c'è qualcos'altro che sta mantenendo il dolore, perché di solito il dolore di una caduta due giorni, tre giorni, una settimana, però poi passa da solo. Se invece rimane vuol dire che c'è qualcosa che lo sta mantenendo, c'è qualcos'altro oltre alla caduta al gomito e quindi bisogna controllare il sistema nervoso, controllare quello che sta disturbando il sistema nervoso, perché se il sistema nervoso funziona correttamente non dovremmo avere sintomi. Quando c'è qualcosa che lo sta disturbando, per esempio potrebbe essere una distorsione di caviglia, potrebbe essere un'altra alterazione posturale data, non lo so, un paio di occhiali anche, un plantare scorretto, qualcosa che può alterare la postura perché mi va a disturbare il sistema nervoso. Se il sistema nervoso riceve delle informazioni dall'esterno non corrette, mi altera la postura, mi può causare un sovraccarico di alcuni muscoli e una debolezza di altri. Non dimentichiamo gli interventi chirurgici, anche essi possono influire sul sistema nervoso, possono creare delle rigidità locali, è come avere una toppa in un vestito, una toppa che però tira dappertutto perché il vestito è tutto il corpo. Inoltre il trauma dell'intervento può causare un'alterazione della postura. Il corpo è come se si mettesse in una posizione di difesa, quindi alcuni muscoli saranno contratti e più forti, altri saranno più deboli e più rilassati e questo ci va a cambiare la postura, la postura sia quando siamo fermi ma anche quando camminiamo. È fondamentale avere un equilibrio del sistema nervoso e della muscolatura per evitare i sovraccarichi perché i sovraccarichi portano dolore. Cioè se io ho un muscolo rigido, quel muscolo si muoverà meno. Altri muscoli per compensare questa rigidità, perché comunque noi dobbiamo fare i movimenti della vita quotidiana e quindi abbiamo se una parte più rigida un'altra si dovrà muovere di più, sarà sovraccarica. Si sovraccarica perché deve fare questo lavoro ulteriore e quello avrà dolore. Quindi dolore non lo sentiamo nella zona rigida, non lo sentiamo nella zona più sovraccarica. Allora andare a lavorare sul dolore rischiamo di sovraccaricare ulteriormente, di andare a stimolare ulteriormente una zona che già è in sofferenza e quindi di peggiorare il dolore. Per questo io sconsiglio a tanti pazienti di automassaggiarsi sul dolore, come quelli che si fanno massaggiare il collo qui dal partner e però poi si rendono conto che in realtà non stanno lavorando sul muscolo ma stanno lavorando sulla costa. Ok passiamo finalmente alla parte pratica. Ora tutti si aspettaranno che io mostri un bel modellino con i miei muscoli e in realtà vi faccio vedere un modellino con i nervi. Perché? I nervi sono fondamentali, i nervi controllano tutto. Qualunque cosa succeda nel corpo sia a livello degli organi, a livello dei muscoli, a livello della circolazione è controllato dai nervi. Infatti le peggiori malattie secondo me sono quelle dei nervi perché ci possono lasciare per esempio in una sedia a rotelle, ci possono lasciare paralizzati a letto, non c'entra il muscolo, il muscolo funziona perfettamente, è il nervo che non sta lavorando come dovrebbe. Ora cosa bisogna fare ai nervi? Il nervo non è un filo di rame, è fatto da cellule circondate da un tessuto connettivo, un tessuto connettivo che si può irrigidire e quando è molto rigido può creare dei problemi di funzionamento come tutto del resto. Come se si irrigidisce il tessuto connettivo intorno a un muscolo, anche questo muscolo non funzionerà correttamente. Ora non bisogna però focalizzarsi sul singolo nervo, ok io ho mal al gomito, il nervo che arriva al gomito parte dal collo, non posso basarmi solo su quel nervo perché ci potrebbe essere qualcosa che disturba il sistema nervoso in generale. Vi faccio un esempio, il paziente che ha un problema al piede mette un plantare o anche mette un rialzo, questo cosa fa? Va a alterare la postura. Io adesso vi ho esagerato facendo una rotazione, una gamba piegata, una gamba distesa per farvi capire come può avvenire. Ovviamente avviene in maniera molto più ridotta, però questo mi va a alterare la postura e quindi alcuni muscoli non lavoreranno, saranno quindi più rilassati, più deboli, altri saranno più forti e più sovraccarichi e questo mi provoca dolore. Dove? Non certo sul muscolo debole, sul muscolo più sovraccarico. Mi può causare alla lunga anche delle rigidità, mi può causare tanti problemi. Ho detto un plantare ma potevo dire tante altre cose, tanti altri interventi soprattutto esterni. Ci può essere anche un paio di occhiali che mi altera la postura, occhiali che funzionano benissimo perché magari il paziente con quegli occhiali vede perfettamente. Abbiate pazienza, io non sono oculista, non sono ortottista ottico e quindi non ne capisco tanto, però mi hanno spiegato che gli occhiali se non hanno la giusta convergenza o se c'è qualcosa che non va a livello dei coni può avere un'influenza sulla postura. Quindi di questo se ne occupa però l'ortottista e io infatti delego a lui tutto questo tipo di attività. Quando però capisco che a livello degli occhiali abbiamo un'interferenza col sistema nervoso bisogna indagare. Ma questo è un altro esempio, ci potrebbero essere tanti altri esempi. Abbiamo fatto prima l'esempio delle cicatrici. Anche le fratture possono alterare la postura, le distorsioni di caviglia. Quindi innanzitutto bisogna cercare tutte queste possibili cause di alterazione della postura, di interferenza col sistema nervoso. Il corpo sostanzialmente funziona così. Noi abbiamo un input quindi delle informazioni che arrivano al sistema nervoso, il sistema nervoso le elabora e poi crea una risposta motoria. Quindi mi può andare a creare una contrattura, mi può slivellare il bacino, mi può bloccare una vertebra in rotazione. Sono queste le possibili risposte. Allora io cosa vado a fare? Sblocco il bacino, sistemo la vertebra, sblocco la vertebra, cosa risolvo? Probabilmente niente, probabilmente appena il paziente esce è al punto di partenza. Se invece sono andato all'origine, che può essere per esempio un intervento chirurgico o questo rialzo che non è corretto, per carità non tutti i rialzi sono sbagliati e non tutti gli occhiali sono sbagliati, però può capitare. Allora io devo capire che cos'è che sta interferendo e poi una volta tolta la causa, allora sì che vado a sbloccare il bacino, la vertebra per riallineare e per rimettere il sistema nervoso in condizioni di operare correttamente, aiutandolo a sistemare la postura. Come faccio a sistemare il bacino, le vertebre o tutte le altre articolazioni? Faccio dei bei cric-crac, degli scrocchi, dei thrust, delle manipolazioni articolari? No. A parte qualcosa su piede e caviglia perché effettivamente lì funzionano bene, non ci sono rischi e effettivamente è difficile anche trovare delle alternative, sul resto del corpo preferisco usare delle terapie dolci e delicate, nonché il piede e la caviglia li lavori con forza e con violenza. Si danno degli impulsi un po' rapidi però sicuramente dolenti non traumatici, perché il corpo non risponde bene ai traumi. E poi tutte le manipolazioni, una volta ok, ma se fatte un po' con regolarità, possono anche andare a danneggiare i legamenti. E noi non vogliamo danneggiare i legamenti, non vogliamo creare dei problemi a lungo termine per risolvere dei problemi a breve termine, se no andiamo sempre sul solito problema delle terapie sintomatiche. Invece bisogna andare prima sulla causa e poi quando si deve lavorare per sbloccare le articolazioni si possono usare tante tecniche neurologiche, tecniche che vanno ad agire in maniera dolce e delicata e mi vanno a rilassare tutta la zona. Quindi quando la zona è rilassata, i legamenti sono rilassati, anche le articolazioni sono più mobili, perché non dimentichiamo che le ossa sono tenute da legamenti, muscoli, tendini che legano una all'altra. E gli esercizi riabilitativi? Sicuramente sono un'ottima terapia, una terapia che io consiglio, però finché non si trova la causa, non si toglie la causa, probabilmente non basterà fare degli esercizi per risolvere il problema. Quindi si possono fare, in aggiunta alle sedute di terapia manuale, si possono fare anche dei percorsi insieme, quindi il paziente viene a fare sedute di terapia manuale ma anche sedute di esercizi, oppure si può anche fare prima la terapia manuale, si agisce sulla causa, si cerca di ristabilire l'equilibrio del sistema nervoso e poi finito questo percorso si inizia una sorta di mantenimento con gli esercizi. Sappiamo che gli esercizi si possono fare regolarmente perché non hanno effetti collaterali quando si fanno i giusti esercizi e hanno tanti benefici. Quindi se mi vanno a ridurre il dolore una persona può anche fare regolarmente i suoi esercizi, il suo programma e questo programma gli permette di stare bene e di ridurre i sintomi. Grazie. Grazie.